Sì, sono contento. Era da tanto che aspettavo l'occasione, il momento per ritornare a giocare. La partita di oggi è stata una buona partita da parte di tutta la squadra e sono felicissimo di essere tornato a giocare. La mia condizione adesso è buona, non sono ancora al top, però piano piano sto raggiungendo la condizione ottimale e mi sono rimesso a disposizione del mister. Era importante vincerla, poi era importante, veniamo da tre risultati utili, non abbiamo preso gol da due partite, sono tutti segnali molto positivi per la squadra. Calcolando che oggi siamo scesi in campo con me che non giocavo da tanto, Antonio che è venuto da un infortunio, Cucurullo e Sparandeo che comunque hanno fatto una buona partita. Giocatori che comunque abbiamo giocato di meno rispetto ad altri e abbiamo tirato fuori una buona prestazione di cuore. Siamo contenti anche di questo traguardo raggiunto dal Benevento che negli ottavi di Coppa Italia forse è la prima volta. I risultati portano sempre il morale alto, gli infortuni sono tanti, però piano piano stiamo recuperando tutti. Quando saremo al top andrà sempre meglio.